Ha voluto e ha ottenuto di fare un'attacca, è una follia. Ma no, ma che senso ha fare un'attacca così per provare le attrezzature? No, e poi lei che cosa ne capisce? Io non... Va bene, sì, sì, ho capito che è meglio essere gentili. Ho capito che è Carla Bassi, però io di fronte alle stupidaggini mi ribello e poi non... Ma no, io non mi fido, no. No, ma lei... ma lei è fuori del nostro mondo. Sembra che le sia tutto dovuto. Va bene, sì.